Buongiorno a tutti, sono Chiara Muti, la regista dell'opera Madama Butterfly che debutterà il 9 dicembre al Teatro del Maggio Musicale. Speriamo quest'anno di riuscire ad arrivare al termine perché l'altro anno siamo stati bloccati addirittura d'arrivo, ma siamo fiduciosi, quest'anno ce la faremo e speriamo di potervi dare con tutto l'amore che abbiamo messo per la creazione di quest'opera, speriamo di potervelo dare con tutto il trasporto e l'affetto che abbiamo messo per metterci al servizio del grande Puccini. Quindi vi aspettiamo, venite, è importante sostenere la cultura e il teatro in questo momento e ascoltare la musica aiuta il cuore. Grazie.